ciao a tutti e bentornati in tessilagnoso meglio quest'oggi vi dico benvenuti nel mondo affascinante del crochet perché quest'oggi parleremo di un articolo che è l'uncinetto in alluminio della tessiland un articolo che non è un semplice accessorio un semplice attrezzo ma bensì il perfetto connubio tra praticità e design pensato e studiato nell'elaborato di tessiland appositamente per chi è appassionato del crochet e soprattutto per chi utilizza l'uncinetto e non i ferri ma analizziamo nel dettaglio ne vedremo solo uno e poi ovviamente la carrellata di tutti i numeri con i relativi colori ed eccolo qui il nostro uncinetto quello che potete vedere qui è il numero sei e mezzo ebbene sì perché gli uncinetti tessiland hanno anche misure come il 6 e mezzo il 5 e mezzo che non è sempre molto facile trovare sono così eccoli qui in alluminio li potete vedere colorati qui non parliamo di un semplice uncinetto ogni pezzo racchiude in sé un arcobaleno di colori distintivi per ogni numero infatti grazie al innovativo processo di fusione ogni uncinetto sfoggia tonalità brillanti e persistenti che poi vedrete in seguito e questa caratteristica oltre a rendere il vostro set qualora ne acquistaste più di uno più allegro e stimolante vi consentirà anche di individuare immediatamente il numero di uncinetto necessario e dato che il numero è inciso direttamente sull'uncinetto lo potete vedere qui non dovrete quindi più preoccuparvi che possa sbiadirsi o cancellarsi è realizzato in alluminio di prima scelta e quindi ci assicura una durabilità ineguagliabile e la sua impugnatura eccola qui ergonomica è studiata per garantirvi ore di lavoro senza alcun affaticamento ma vediamo tutte le varianti di colore che presentano questi meravigliosi uncinetti tessiland e quindi insomma dal piccolo accessorio che può essere ad esempio anche una bomboniera ad un'ampia coperta o perché no dalla scia al cappello non c'è lavoro all'uncinetto che l'uncinetto per appunto in alluminio tessiland non possa sostenere la sua versatilità lo rende l'accessorio ideale per ogni creazione assicurando sempre risultati precisi e impeccabili scegliete quindi l'uncinetto in alluminio della tessiland e trasformate ogni vostro progetto in un'opera d'arte colorata e brillante che dire buon lavoro ma anche di iscrivervi sui nostri social sul nostro canale youtube per essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche su tutti i nostri tessiland live tessiland news shorts ma di iscrivervi ovviamente anche al solo unico ed ufficiale gruppo tessiland noi ci vediamo al prossimo articolo ciao